Ciao a tutti ragazzi e bentornati nel nuovo episodio di Orwell, dunque 16 aprile, allora Allora, vediamo le ultime cose che possiamo fare, quali sono? Non mi ricordo che avevamo fatto Ecco qua, dobbiamo vedere dei messaggi, quindi sempre con Harrison, uniamo le forze e saputello Preoccupante, molto preoccupante, dispiace per quello che è successo, ma risponde Posso unirmi a pensiero se ne faccio già parte? Quindi questo qui fa già parte di pensiero, dov'è inizio Echide? Lui è già un membro, perché non abbiamo trovato indizi sulla sua storia con il pensiero, allora? Mandami la tua risposta a Timelines Nuts Web Warrior Andiamo un po' Il pensiero del web proprio Quindi in ceria, noi ci mettiamo sta foto del cane Chiedimi l'amicizia Non è il cane che stiamo cercando Simpatico Gesù inizia a prendere le cose seriamente, va bene Che c'è? Al momento lui c'ha sta foto, meglio di niente Chiedimi l'amicizia per avere notizie veloci sulle fatte nella sicurezza Non commenta questa cosa, sembra strano Non commenta questa cosa Guerriere del web Beh, dice che è nato il 23 giugno del 1912 Probabilmente non è così No comment Intrattenere le masse L'onipresente internet Io qui se carico qualsiasi cosa, questo rompe cazzo Passo al pigre Giraffe con i cappelli Olimpiadi nazionali Mangiatori di pane Tutti i mem E così a inizio Il qui presente guerriero del web Dichiera la guerra dei dati a tutti voi Guerra dei dati Cos'è la guerra dei dati? Cerca di capire cosa va O cosa non va In me E potrei essere ricompensata È una trappola Guardate cosa ho fatto qui E questo l'abbiamo visto Mi hai migliorata È proprio quello che Quello stronzo di me Devevi che ci vuole stare facendo amico mio Sarah McGill Beh, lei Iniziate a creare un piccolo gioco per voi Corno, corno, corno Ah no Corno contro corno Allora Caro Victor Sei mio idolo Ammiro veramente il tuo stile E te Hai una fantastica società tecnologica Che dici di essere tu E indossi degli splendenti stivali in pelle Di serpente Che sono stati fabbricati Probabilmente dai bambini In Ustvakia Un sacco di hipster Ti prendono come modello Vogliono essere come te Non c'è molto altro Che un uomo potrebbe volere Nella vita Qualcosa mi sta preoccupando Però Come stella più brillante del mondo La tecnologia Dimmiro la tua sicurezza Guarda Se avessi usato come login Vr Rosen E usata la password Da 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 Non sarebbe stato un gran problema Nessuno ci avrebbe fatto caso Ma per una figura così luminosa come te Immagina cosa succederebbe Quando qualcuno meno buono di Di te Le trovasse E postasse pubblicamente Sulla timeline Un qualsiasi altro social Imbarazzante Vero? Tutto quello che chiedo È poter fare due chiacchiere con te di persona C'è qualcosa che mi preoccupa Tanto tempo ormai Anche se ho già dato un occhia Nella torre d'avario Della Rosen Naturalmente sarebbe andato lì Tutti quelli che conoscono Che si occupano di tecnologia E programmazione remoto Vogliono lavorare lì Il che è abbastanza sconvolgente per me In realtà assumono molti stagisti Solo pochissime persone Hanno contratti a tempo indeterminato Tipico Non eri mai disponibile Quindi diamoci un'altra possibilità Usa una chat chiamata Silent Scream L'ho però chiamata io Che ti connette a qualsiasi Altre tipologie di chat Quindi usa quello che vuoi I miei nicki È Silent Scream E Rude Non commenta Io questi non ne copio Se no questo mi rompe i coglioni Allora come ascoltatore abbiamo Dall'avvocato Joseph Langley Assistenza Ciao Joseph Immagino che tu sappia chi sono Ho saputo che uno dei tuoi clienti Una certa Cassandra Watergate È attualmente in custodia cautelare Da quanto mi risulta Entrambi avete una sorta di legame Anche se questo non è di mio interesse È straziante sapere che gli innamorati Sono distanti l'uno dall'altro Sono in grado di evitare questo Se consegni materiale incriminante A una persona di nome Abraham Goldfels Un membro gruppo di attivisti pensiero Con cui so che sei in contatto E questo esce sempre fuori Che ci nascondi tu Mi prendi in giro È il nostro È il nuovo È di nuovo il nostro amico hacker Fammi sapere se sei disposta Ad assistermi in questo E mi assicurerò Che anche Cassandra Riceva un amico Un aiuto Per incoglionire Richiesta urgente La Verna Scusami per scritti di domenica Ma una questione urgente Tra le mani Sto guidando l'ufficio Ho bisogno di usare I miei portati di privato Poi per favore sbloccare l'ID Per la nostra radio locale Serve per me Grazie e buona domenica C'era una cosa che dovevo dire L'ingegnere capo Mi ha avvertito Che apparentemente C'era un problema tecnico Che a volte causava Mal funzionamenti A dispositivi Che stavamo monitorando Ma non ti devi preoccupare Questo problema è stato risolto Sì? Risposta richiesta urgente Joseph è finita Non lavorare troppo La Verna È molto tempo Che ho perso i contatti Con Abraham Goldfelds Non posso soddisfare Le tue richieste Ti fornirò Ulteriori informazioni Sui membri Del gruppo Attivista Pensiero Solo se rispetterei Il patto Cassandra Watergate Deve essere liberata Domani Non un giorno in più Non mi aspettavo Che accedesse così facilmente Aspettiamo e vediamo Dove andrà la prossima volta E parlerà con i membri Del pensiero Contatta Cos'è cambiato A contatta E non mi pare Che sia cambiato niente Cosa possiamo trovare? Panoramica Ha cambiato qualcosa Qui? Boh Non mi pare Si è cambiato nulla Infiltratore Ok Siamo entrati Nel desktop Di Joseph Langley Mail Ufficio Il nostro incontro Caro Mr. Young Vorrei ringraziarla Per il nostro incontro Di lavoro È stato un onore Incontrarla di persona Il vostro caso Merita un avvocato Dedito e pieno Di esperienza In seguito A delle attente Considerazioni E con incredibili dispiaceri Che devo informarla Che non ho le competenze Necessarie Per un caso Di complessità In questo momento È preferibile Non prendere parte In questo caso Controvoglia Sono sicura Comprenderà la mia Decisione Nuovamente La ringrazio Per la fiducia E l'impegno Che ha messo Nella sua proposta Spero davvero Di avere la possibilità Di lavorare con lei In un prossimo caso Quando le circostanze Saranno cambiate Prima di allora Le auguro il meglio Con il vostro caso Profilo bancario Ringraziare per un incontro Scorso giovedì Immagino comprendere Il nostro caso Tempo fondamentale Va bene Lui ha rifiutato Perché mo c'ha Altri cazzi Per la mente Mostrato che il vostro cliente È un individuo Potenzialmente pericoloso Il che per motivi Sicurezza pubblica Sulla base del 572A e B Del decreto sicurezza È abbastanza Per sostenere la custodia Fino a quando Le indagini Non saranno concluse Feedback sulla sua richiesta Ciao Joseph Ho letto i tuoi registri Per la terza volta Questa mattina Che mi avevi chiesto E tristemente Ti posso solo confermare Cosa ti ho detto In precedenza Potresti non notarlo Al momento Perché è un lento declino Ma toccherà il fondo In uno di questi giorni Se gli affari Proseguono per questa strada Gli affari Non vanno così bene Sembra Troppi crimini Suppongo Dobbiamo fare qualcosa Di giusto Perdonami Se sono come un disco Rotto Ma questi sono i problemi Maggiori che vedo Oltre al numero di clienti Che cala costantemente Le tue spese Dalla fine dell'anno 2016 Specialmente quella Della tua personale Carta di credit Sono cresciute Un enorme 218% Alla madonna Hai qualche idea Di quale potrebbe essere La ragione? Poi c'è questa ricorrente Donazione Che va avanti Da un po' di tempo Posso rispettare Il tuo desiderio Di aiutare un amico O altro Ma devi fermarti Ad un certo punto Seriamente Se tutte queste spese Sono obbligatorie Allora concordo Pienamente Con la decisione Licenziare Miss Winters Come hai comunicato Dato che i tuoi clienti Ti stanno comunque Abbandonando Perché avere Una segretaria personale Più a lungo È necessario Brutto Ma non è di nostra competenza Oppure farla lavorare Part time O trovo qualcuno Che lavori part time Per una pagorare Più bassa Idealmente Ok Privato Devo chiederti un favore Mio caro amico In dubbio Se posso rivolgermi a te Con questo nome Per una volta In dubbio È stato Abraham Goldfield A mandare questo Questa email Ora siamo amici Forse vale la pena Indagare ulteriormente Su questa amicizia Spero tu possa trovare Questa mail In buono stato Prima di tutto Vorrei scusarmi Per non aver scritto Spesso come avrei dovuto Spero tu non pensi Che io abbia avvitato Di scritte A causa del tuo chiedermi Supporto finanziario Per Nina Non era per quello Non l'avrei dovuto chiedere In primo luogo Ma eccomi qui A chiederlo di nuovo Potrebbe aver appoggiato Il responsabile Dei attentati di Bonton Dobbiamo indagare ulteriormente Cerca degli indizi Per capire Se c'è stato davvero Un sostegno finanziario Costante C'è una giovane ragazza Il suo nome è Cassandra Un membro del mio club Di dibattito Si è messa nei guai Molto recentemente Necessitata solo Uno dei migliori avvocati difensori Ovviamente Mi sei immediatamente Passato per la testa E così il cerchio Si chiude Così l'ha conosciuta Dopo il meraviglioso Lavoro che hai fatto Come consulente Nel mio caso E niente Questo è avvocato Di tutto il pensiero Quindi è per questo Che si conoscevano Abraham Goldfeld Era un suo cliente Il che solleva la domanda Cosa riguardava Il suo caso? Bella domanda Senza dubbio di aver sentito Delle rivolte di Piazza della Libertà Di due giorni fa Probabilmente anche Del poliziotto ferito Ah che male Non ci girerò attorno Cassandra è la prima Sospettata per questa aggressione Quindi prendere questo caso Potrebbe portare Del cattivo vento con sé Rispetto alle pubbliche relazioni Lei afferma di essere innocente? Io le credo Se dovessi assumerti La responsabilità Per la sua difesa legale Te ne sarei più che grado Coprirò io tutte le spese A qualsiasi costo Fammi sapere che ne pensi Abraham Ok SIS Cronologia cancellata dall'utente 16 aprile Quindi oggi Foto Certificato Fondazione Bambini di Paraj Testato di apprezzamento Questo testifica Che Joseph Langley È un attivo sostenitore La fondazione Bambini di Paraj Un'associazione di carità Dedicata allo scopo Sostenere e finanziare Materialmente i bambini Di paesi di Paraj Ero scettico su questa fondazione Ma sono stati ufficialmente Approvati come operazione benefica Immagini sia una buona causa Dopotutto Attualmente è lacerato Dalla guerra Questo attestato Conferma il supporto finanziario Fornitoci dal signor Joseph Langley Nel corso degli anni Ci teniamo In esprima nostra gratitudine E nostro apprezzamento Nei suoi confronti Matrimonio Quindi è sposato Era sposato Probabilmente Non lo so Sembra Robin Williams Trofeo Sundown Ancora sembra lui Danzando sotto la pioggia Eh Vedi con l'amore suo Con Cassandra Guarda come la guarda Cassandra Ok ok Va bene Nel cestino C'è qualcosa di utile Pare di no Quindi dal portatile Del signor Joseph Ci siamo impicciati Abbastanza Joseph Langley Benvenuto alla FBTN Online Mr. Langley Oh C'ha 57.000 dollari Buoni Donazione mensile Di 1000 dollari A chi? A queste Fondazioni Dei bambini Quindi potrebbe esserci Un collegamento Tra Joseph E Nina Dopotutto Se riesce a trovare Un'ultima indicazione Questo potrebbe implicare Nina Sarebbe abbastanza Per la custodia cautelare Beh C'ha da dire Che magari La donazione È per questa cosa Di bambini Fascicolo interno Il governo Contro Abraham Goldfels I difensori Accusati Di aver barcato I termini Di un contratto Di impiego Con il querelante Che il difensore Aveva inserito Il 15 marzo Del 2013 Ah scusate Abraham Goldfels Ho sbagliato Personaggio Eccolo qua Abraham Goldfels Lavorava nel governo Sei sicuro? Questa è una vera sorpresa Per me Non ho mai sentito Il suo nome qui Mai Qualcuno deve conoscerlo Se è vero Per quale motivo È stato denunciato Per operazioni di contratto? Il reclamo Del querelante È stato garantito Nonostante una condizione Medica del difensore Potesse essere provata Dal fisico Dottor Daniel Lyons La corte Potrebbe non vedere Alcuna giustificazione Per l'assenza Del difensore Da lavoro Essendo che Il difensore Sembra essere In condizioni Di salutare Al momento Del verdetto Questo sembra Spiegare molte cose Sentiva troppo male Per lavorare Ha provato a uscirne E è stato accusato Per questo E giudicato colpevole Considerando i fatti I attentati Cominciano a sommiare Una vendetta Molto strana Per me È ora di trovare Abraham Goldfels Beh sì La corte Ha potuto riconoscere Un varco Nei termini Del contratto di impiego Causando perdite sostanziali Per il querelante Il querelante Pagando un compenso Uguale al suo salario Precedente Durante il periodo Di tempo Di sei mesi Inoltre il difensore Di rimborsare Ogni salario Possa aver ricevuto Durante la sua assenza Questo caso È altamente Classificato Una proposta Inaspettata Caro lettore Ieri Che scomoda Richiesta Mi ha raggiunto Al di là Di tutte le possibilità Che l'universo Abbia da offrire Questa è l'ultima volta E l'ultima Che mi sarei aspettato Il governo Mi ha richiesto Di lavorare Per loro Il governo Lo stesso governo Che sta portando avanti Il pericoloso Decreto sicurezza Consentendo di perseguire Da sola La prova suggestiva Non capisco La natura Di questa chiamata Hanno fatto la loro ricerca Essendo pienamente A conoscenza Di mia opinione Di mio lavoro A Stellingan Perché dovrebbero Chiamarmi specificamente Allora Mi ha perplesso Al massimo E non mi sembra Di identificare Per cosa potrei servirgli Tutto ciò Che mi è stato detto È che il mio lavoro Sarebbe necessario Per un suo progetto Innovativo Su larga scala Parole d'ordine Privi di significato Naturalmente Non mi elaboreranno Su alcuna domanda Naturalmente Ho rifiutato Il contratto Non ho dubbi Che mi richiameranno In un primo momento Goldberg Si ha rifiutato Dopodiché Ha preso il contratto Solo per poi Infrangerlo Strano Non puoi essere serio Non insieme a lavorare Per il governo Banca dati Medica centrale Allora Sempre di Goldfell's È nato Il 4 luglio Del 53 Vive a Portobello Road Portobello Road A Fairview L'indirizzo di Abram Ben fatto Chiederò immediatamente Una squadra Per le indagini Qualcosa mi dice Che non è Nei dintorni Continua il tuo lavoro Ti farò sapere Non appena la squadra Mi avrà fatto rapporto Il paziente Ha segnalato Un dolore fastidioso Un aumento Della regione Epigastrica Va bene Simile alla nausea Vabbè sti cazzi Di quello che c'è Insomma Un carcinoma Tumore da dimensione A prossimamente 2-8 cm È stato trovato La testa del pancreas Aia Cancro Sfortunatamente Il tumore Ha superato Lo stato di operabilità Operabilità A causa della metastasi Trovate nei linfonodi Paraortici Il paziente È stato informato Di questa circostanza Così come del fatto Che l'aspettativa Di mida media È da 6 a 12 mesi Ah Sarà morto Nel mentre Allora Questo è terribile Ma significa Che quest'uomo Non ha nulla da perdere Sarà morto Con Harrison O'Donnell Ehi là Saputello C'è nessuno? Così ti sei fatto Strada Fin qui Harrison Scavare nella tua TL È stata una Faticaccia Perché non mi hai Semplicemente detto Che volevi Chattare Quando mi hai detto Quello che è successo A Nina Mi sono messo Subito a cercare Ho l'impressione Che il governo Non stia combinando Nulla di buono Ottimo lavoro Capitano Ovvio Ho trovato qualcosa Qualcosa che non ti piacerà Per nulla Orwell Cos'è Orwell? Questa è una bella domanda Oh no Abbiamo fatto di tutto Per nascondere la nazione Fino a quando Non saremmo stati pronti Per la rivelazione E ora È un peccato Che la gente L'abbia scoperto in anticipo Ora dobbiamo procedere Con molta cautela Non parleranno più Così apertamente Temo Sembra si tratti Un sistema Che può mettere Tutto ciò che è in rete Sotto sorveglianza Cosa intendi Esattamente Per qualsiasi cosa? Qualsiasi cosa Come questa conversazione Oggi chiamata Pagina web Ogni Chiamata Scusate Magari anche pc Qualsiasi cosa Mi stai dicendo Stronzate Non lo sto facendo No Vorrei che fosse così Ipotizziamo per un secondo Tu abbia ragione Come riuscirebbero a farlo Archiviare il tutto È una cosa Ma stresacciarlo Attivamente Parte per parte Esternalizza La sorveglianza personale Di fuori della nazione Quella gente Dovrebbe raccogliere Stralci di informazioni Da siti web Tutti i tipi di comunicazione E non spedire tutto A mainframe Di Orwell Possiamo dare per certo Che nulla sia più sicuro Come abbiamo fatto A non sentirne mai parlare Cosa più importante Come non ne hai mai sentito parlare Ci hanno scoperti Ho dei buoni collegamenti Con alcuni hacker Al di fuori della nazione Una vera e propria rete di hacker Sfortunatamente Non possiamo seguire Persone al di fuori della nazione Conoscono un paio di trucchetti Su reclutamento segreto Per questa merda Senza che qualcuno Nella nazione Ne venga a conoscenza Non so come lo facciano Ma lo fanno E questo spiega anche Cosa è successo a Nina Immagino È una pazzia Non hanno una decenza Nessun fottuto rispetto Per la privacy E per Nina Cazzo Questo è tutto ciò Contro cui abbiamo combattuto Harrison Non farlo Stai attento A quello che dici Non ho bisogno Di stare attento A quello che cazzo dico Per favore amico Calmati O ce ne pentiremo Ma di chi lo faccio a faccia No Non sarà mai tranquillo Fino a quando Questa follia Non si fermerà Ho già avuto un'idea Su misura Per te Ehi Se parli qui di cose del genere Ci farei rinchiudere entrambi Oh Alleluia Gli hanno fatta Incontriamoci da qualche parte Non sono molto svegli E fai un cenno E anche loro Saranno sul posto Ci deve essere qualcosa Possiamo fare Per parlare Senza possibilità Qualcuno stia ficcanasando Non possiamo restare Senza fare nulla Beh C'è una cosa È un po' rischioso Stai usando la mia chat Proprio adesso Vero? Beh se avessi voluto Vivere la vita In una gabbia Seria andata a vivere In una cazzo di zoo Questo sistema Deve essere fermato Sì è abbonvenevole Ma sì Questo strumento È una cifratura Incorporata È un algoritmo Di criptografia Scritto da me Facile da decifrare Ma fuori dai registri Ed è ciò che ci serve Probabilmente Non potranno decifrarlo Non subito È il tempo di un paio Di messaggi Probabilmente Che cosa stai aspettando Vai Ok lo attivo Ma ricorda di scrivere Velocemente E spera che funzioni Sto ricevendo Segnazioni di una criptografia Sconosciuta Non ti preoccupare Olvore dovrebbe essere In grado di rompere La cifratura In pochi secondi Intanto rimane scritto Cioè anche se scrivete così Tra tre secondi Vedremo Che cambia Potrebbe funzionare Avrò bisogno Di un po' di tempo Per qualizzare I punti di accesso E poi sarà Questione di secondi Una cosa Cosa farei Con quello che Troverò lì Iniziare una guerra Al governo Amico Non so Tu che parli di guerra E cazzi simili Mi metti i brividi Chiudo Chiudo Beh non mi dovevi tradurre Sto cosa Non ti preoccupare In qualche secondo Cazzate Questo gruppo È responsabile Per gli attentati A Bonton Immagino che tu Stia pensando a me Ora Vero Non ho assolutamente Idea di chi Abbia fatto Trapellare Queste informazioni Certamente Non io Solo pochissime persone Possono accedere I dati sul nostro sistema Questo non è di grande aiuto Per le nostre indagini Piuttosto Se il contrario Dobbiamo sbrigarci È responsabile Di attentati Di Bonton Nina Era apparentemente Un gruppo Un membro Di un gruppo Attivista Chiamato Taft Sono coinvolti Con gli incidenti I suoi coinvolgimenti Con gruppi sospetti Caro signor O'Donnell È stato portato Dalla nostra attenzione Il fatto che lei Abbia partecipato Attivamente a gruppi Sospetti Nel passato O nel presente Ritengo che non sia Necessario spiegare Come ciò sia Contrario Le regole lavorative E le nostre aspettative Neutralità Nei confronti Di ogni giornalista E del National Beholder Con la presente Le informiamo Sulla cessazione In media Del nostro contratto Di lavoro Per quanto riguarda La rubrica National Opinion E qualsiasi altro Articolo Quindi è stato Buttato fuori Probabilmente È un effetto Collatario Del leak Mi chiedo Cos'altro è uscito Dalla TNB E soprattutto Chi lo ha fatto Che è cambiato qua? Non mi pare Cambiato niente Cioè ha detto Che alcune cose Non corrispondono E quindi Quello è stato Licenziato E quindi Qua non mi fa Niente Le comunicazioni Sono finite Vediamo che dice Determina se Joseph Langley Ha assistito Finanzialmente Nina Trova indizi Su dove si trovi Abram Goldfields Eh mica lo so Adesso Eh mica lo so adesso Sa Cassico momento In cui Non so che cosa fare Sono finite Le comunicazioni Sono finite le comunicazioni Non capisco perché a volte Alcune cose fa le stelline Non capisco qua Questa cosa L'ho già caricato Ecco a cosa servono i pagamenti Immagini Signor Langley Sia fuori dai guai Allora Eh te l'ho detto Che dava i soldi A questo Oh Sessione Ehi 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 Sembra che il governo Abbia appena esploso Il primo colpo Contro di noi Così sembra Credevo Ci avrebbero messo più A collegare Tutto il pensiero Non mi aspettavo Che il TNB Avesse scritto così Appartamente Della questione Quegli stronti Del TNB Mi hanno licenziato E lo sappiamo Davvero Così velocemente Wow Dovamo proprio amarti Vabbè Ma lo sappiamo E' inutile Vi ricopi Ora c'è un'altra cosa Cass è stata arrestata Me l'ha detto Il suo avvocato Cosa Cazzo Proprio quando Pensavo Che non potesse Mettersi peggio Già Ma era sulle nuove Prove Sul riferimento Della gente Non so Non su questi attentati E' come se Qualche maledizione Ci stia arrivando Addosso Tutto ad un tratto Da ogni direzione Credi che la polizia Seguirà anche questa pista Ovviamente E' solo questione Di tempo Harrison Ho paura Già Non averne Il tuo hacker Ha detto qualcosa Oh quello Questo tizio è pazzo Completamente andato Non so nemmeno io Perché gli abbia chiesto aiuto Non riporci troppe speranze Oh diamine Che gli dici Dell'avvocato Con cui hai parlato Sembrava che Ci potesse essere utile Molto presto Joseph dice Che è occupata A cercare di Tirare fuori Cassandra Quel figlio di puttana Comprensibile Che cosa fai resti tu Se qualunque sia Il suo nome Fosse arrestata Che cosa fai resti tu Se fossi io A posto suo Sì sì Ho capito Non c'è più di far mai Lezioni Jules Ma Joseph Ha detto Che potrebbe Darci dei consigli Se scopre qualcosa Sì certo Che lo farà Subito dopo averci Mandato la fattura Da pagare Non sei giusto Dobbiamo accettarlo Su questo Siamo lasciati soli Aspetta un attimo Eh Mi ha appena Mandato un messaggio Dammi un secondo Ciao Juliet Ciao ancora Ho appena dato Un'occhiata Alle notizie Sì esattamente Ciò che temevamo Sembra abbastanza Dura Sì Ma ho fatto Un'interessante scoperta Di cui dobbiamo parlare Sì Ho bisogno di parlare Con te Il tuo collega Harrison Stavo giusto Parlando con lui Posso avviare Una conferenza telefonica Lui desiderò Di conoscerti Sarebbe fantastico Dammi un attimo Preparerò Una conferenza telefonica Vuole parlare Aspetta Nina Nina ha detto Che la polizia Intercettava Le sue chiamate Le hai detto Tu stessa Perché non chattare Penso che una chiamata Sia più appropriata Per una consulenza legale Minimizza le incomprensioni E le chat Potrebbero essere Facilmente registrate Siamo una semplice coppia In cerco di consigli No? Coppia? Dobbiamo farlo Non essere troppo schietto Non nominare Intercettazioni Intesi Non mi piace Ma ok Ciao Ehi Ehi Joseph Sembra che stia funzionando Ciao Harrison Immagino Sì E tu sei il giurista Giusto Il giurista Chiamami Joseph Va bene Joseph Ho appena letto Del vostro gruppo Sul TNB Suppongo questo Non mi chiarisca Proprio le idee Puoi dirlo forte Quindi qui Jules Ripone grande fiducia Nelle tue abilità Joseph Puoi dirmi cosa Mi hai scoperto? Va bene Dunque Conoscete tutti Il decreto sicurezza Sì Sì Tutto sommato È un insieme di paragrafi Per mandare la gente In galera Molto più facilmente E curiosare Sulle loro vite Se necessario Se necessario? No Loro lo usano Come misera scusa Per spiegare le persone Di continuo Intimidirle Sì Capisco Quello che è particolarmente Pericoloso per te È che gli individui Possano essere perseguiti Per un semplice segno Di ostilità Verso la nazione In situazioni specifiche Sarà più che sufficiente Indicare una parola Che ti è scappata In un raptus Per considerarti pericoloso E abbastanza Farti trattenere Per un po' di tempo Ma quello che è ancora Più problematico Per voi È quella che si chiama Transittività Delle prove Il che Tutti voi formate un gruppo Un gruppo attivista Questo vi collega l'un l'altro Ora se vi sono abbastanza prove Che per esempio Abram abbia creato pensiero Per commettere crimini O addirittura Attentati terroristici Beh Avrebbero i presupposti Per arrestarvi tutti Ma non abbiamo fatto nulla Com'è possibile? Questo è così Dannatamente scandaloso Ma manipoleranno Quelli che chiamano prove Fino a raggiungere Quello che vogliono? Dovrei essere molto Molto attento D'ora in poi Possiamo fare qualcosa Dal riguardo Vero? Abbiamo bisogno di prove Schiaccianti Che dimostrino Che Abram Abbia creato questo gruppo Come gruppo pacifico Che lo provino Oltre ogni possibile dubbio Ecco perché ho bisogno Di chiederti di Abram Per scoprire Le sue intenzioni originali Beh Chiedi pure Noi due siamo stati amici Per un po' Ma non ho mai avuto L'impressione Che mi dicesse molto Su quello che gli succedeva Nella vita Era piuttosto solitario Era Assolutamente Lui era proprio così Tranne quando si trovava Vicino a Pensiero Ha scoperto di me Leggendo il mio blog Ha detto che voleva Far partire Un gruppo di dibattito Ah Come ha creato Pensiero Ero d'accordo Abbiamo avuto un paio Di assemblee sfigate Non è successo molto Un gruppo di dibattito Sarebbe stato ottimo Non si sarebbe mai sospettato Di una cella terroristica Sì ma Ebbe Era sessionato A dover rivolgare Il suo messaggio E rendere le persone A conoscenza Di quello che il governo Stesse facendo Va bene Potrebbe essere Frainteso Riguardo le proteste Siamo andati avanti Col piano di Nina Per il centro commerciale Di Circle Ok Alla fine Si è rivelata una catastrofe E Juliet A che appunto Ti sia punita a pensiero Durante i miei studi Ho incontrato Abraham online Per caso Mi ha motivato A partecipare A questo corso Poi Jules Ha preso sopravvento Per la pianificazione Di altre due proteste Il signor Donne Il signor Donne È un ammaliatore Allora Jules Ha sopravvento Per la pianificazione Di altre due proteste Quindi pensi che Adam Intendesse la pianificazione A oltraggio No Ebbe Budiava la violenza È un ammaliatore È stato convolto In una pianificazione Di proteste E pensiero Madernama Questo Non gli lascia spazio Il signor Donne È stato convolto In una pianificazione No Ebbia Budiava la violenza Volare che rimanessimo Sempre pacifici È positivo Quindi è stato un singolo Ad averlo pianificato È stato qualcuno In particolare Ad averlo aizzato Falsi intenzioni E pianificazioni Sbagliate È una cosa Tutto questo Tu Nina Io Ognuno di noi Ha la colpa Per l'allontanamento Al nostro modo Dall'intenzione Di Abe È stata Nina Lei ha trascinato I desideri di Abe Non noi Quindi stanno dando La colpa a Nina Se è così Perché non ha fatto Nulla a riguardo È riso Nessun innocente È qui Non me Non tu Nessuno Temo che questo Non ci parte Da nessuna parte Per essere sicuri Che non siamo perseguitati Con un unico gruppo Dovrò parlare con Abram È andato Non sappiamo dov'è Non sappiamo Che raggiungerlo Purtroppo sì Avrò bisogno Di scrivergli di nuovo Delle e-mail Per far uscire Cassandra Da questo guaio Capisco Sì sì Suppongo Tra la rete Beneficio voi due Anche se Cassandra Viene rimossa dalla custodia Quindi non preoccupate Tornerò da te Addio grazie Grazie Ma figura di ciao L'utente ha abbandonato la sessione Beh il tuo avvocato Ne stanno troppo d'aiuto Andiamo Dai un po' di tregua Una situazione difficile Per tutti noi Quindi che succede Suggererei Incontrarci da qualche parte In città E organizzare un buon piano Che ne pensi Il vecchio luogo D'incontro Qual è il vecchio luogo D'incontro Quel posto Ovviamente Dovevo solo fare una cosa Prima Non farmi aspettare troppo Peccato Non l'abbiano detto Ma l'arresto Di uno di loro È comunque fuori discussioni In questo momento Non abbiamo abbastanza prove Contro di loro Non farmi aspettare troppo Ci vediamo Ci vediamo lì Ok Che è cambiato qua Con la libertà Non è libertà Ah Tutti oggi Stanno scrive La vera di morte È una nazione A ora avrete Quindi la stanno Stanno minacciando Stanno dicendo Un sacco di cose contro Dato che È uscita Giustamente al giornale Il fatto che Questi potrebbero essere Delle Delle spie Terroristiche Discussioni Come iniziare a riparare Il mio portatile Topic Juliet nel 2016 Quindi Prima Un anno prima Ho ricevuto questo nuovo Notebook Per i miei studi Come organi di Natale Dai miei genitori Funzionava bene Fino alla scorsa settimana Ma dopo una breve presentazione A media department Expo Quella danata cosa Non vuole più accendersi Penso che sia Sciolto qualcosa All'interno Mio padre ha detto Che dovrei semplicemente Restituirlo Ma sono determinata A ripararlo da solo Venite a me ragazzi Ragazze tecnologici Datemi qualche consiglio Così possa definirmi Un vero esperto Di I Ne riparare il notebook Ho fatto una foto Ho fatto una foto Del piccolo combina guai Così che possiate vedere Di quale marca E prodotto Sto veramente parlando Qualcuno là fuori Sa dirmi Da dove iniziare E cosa dovrei cercare Hai provato a spegnere E riaccenderlo Molto divertente Penso tu Padre abbia ragione È meglio restituirlo Ho preoccupazioni Per la garanzia Ma voglio prendermi un rischio Solo che odio Lasciare andare un'idea Quando mi sono fissata Si capisci cosa intendo Perché sei così testarda Goldfeld Spero di poter parlare Un po' fuori argomento Francamente Navico raramente In questa sezione Ma ho vissuto post E credo di averti vista La scorsa settimana Non eri quella Che ha tenuto La breve presentazione Sull'etica di media online L'ho trovata Abbastanza accattivante Vorrei invitarti Il mio corso di etica Mediatica E prossimo semestre Vedi qui l'ha presa lui Un anno prima Mi dispiace Non posso essere abbastanza Io direi col tuo notebook Grazie a voi Gentili Sembra abbastanza interessante Potrei passare Ah Abbiamo l'id Del notebook Quindi ci possiamo infiltrare E voilà Rosan Materiale per le pubbliche relazioni Comunicazione sincrona Che è successo? Ovvero l'ha perso La connessione a serve principale Perdita la connessione a serve principale Perché? Mi hanno fregato? La connessione a serve È stata ristabilita Perché non funziona E riesce a ricevere i miei messaggi? Ah eccoci Ho appena avuto Uno strano tipo di problema Di connessione Era come se Il mainframe fosse sparito C'è ancora qualche perdita I dati tra cui serve Sembra tutto Siete lentamente Tornando alla normalità Avevamo un buffone Che pensa di poter invadere Il nostro database Ok Quindi quello sta riuscendo Riuscendo ad entrare In database Ehi Juliet Metti una chiavetta Stay always reticent USB con i materiali Che hai chiesto sulla sua scrivania Sono migliaia di documenti Includono dettagli tecnici Tuttavia la maggior parte Delle specifiche Sono state censurate dai clienti Spero che Maria Sia consapevole Che questa roba È così confidenziale Che non esiste Nemmeno ufficialmente Niente elenchi Di chi ce l'ha O dovrebbe averla Quando e perché Non capisco perché PR Ne abbia bisogno Ma beh Non mi intralcerò L'immagine visionaria Di Victor Sulla condivisione Di informazioni Chiedi e ti sarà dato Dopotutto Tu avevi una chiave Parlando del diavolo Fammi un favore E fatti vedere Le persone la prossima volta Ok Anche se è appena iniziato Questo mese Puoi già indovinare Di sicuro Cos'è da dire Victor Riguardo gli scambi Di mail All'interno della società Ehi Barry Maria mi ha chiesto Di ottenere alcune specifiche Di un progetto Con il nome interno Di un codice Demiurge Manderò le chiave Autorizzazioni Per accedere Informazioni richieste Separatamente Puoi darle dei dettagli Ho già sentito Questo nome Puoi darle dei dettagli Come funziona Da un punto di vista Dell'utente Interfaccia Comandi E le tappe Demiurge Stelligan Il suo corso Mia cara Juryat Puoi scrivermi In qualsiasi maniera A Goldfeld Tu possa trovare Appropriata Francamente Sono contenta Con il tuo messaggio Aperto e onesto Vabbè Molto intelligente Ok Lascia ti dica qualcosa Che raramente dico Ad altre persone Io vengo Dalla nazione Di Greiblingen Un piccolo paese Vicino a Stuttgart In Germania Dove ho ancora famiglia Ok Quindi sei tedesco Faccio una parte Un piccolo Con le persone Sono inconformata Gli argomenti In cui sei interessata E va bene Questo sta cercando Proprio di farla Andar lì Bozza saggio I pericoli Delle ne presenti Informazioni digitali Va bene SIS Joseph Langley Come faccio A tornare Infiltratore Timeline di Harrison National Beholder Standing gun Targets National Beholder Il pensiero Ok Quindi qua Non c'è niente Cestino Saluti da Copacabana Ok Aiutici a trovare Gunter Arons Persone scomparse Nel mondo C'è sempre Speranza Di essere trovati Scomparso Amato padre E marito Gunter Arons Che cazzo È Gunter Arons Amo Non ho idea Di chi sia Gunter Arons È lui È Joseph È Gol Questo è Oh scusate Legittimo cambiare Proprio nome Quando si immigra Ma pochissime persone Lo fanno Questo è ciò Che il signor Gol Pensare Non lo doveva aver fatto Quindi lui era questo Amato padre e marito È scomparso Il 30 settembre Del 93 Allora è scomparso Se era denunciato Nel 93 L'anno in cui È immigrato Che cosa ha fatto La tua adorata Moglie Margaret E tua figlia Eva Arons Questa è la sua famiglia Ma le ha lasciate indietro E perché Necrologi in Bonton Patricia Webster Goodman Rachel Whitfield Gunter Arons 18 dicembre del 2016 Mi stai dicendo Che stiamo dando la caccia A un nuovo morto Per tutto questo tempo Questo è Assolutamente impossibile Voglio dire Ha scritto un'email A Nina Maternova Proprio ieri Giusto? Comincio a odiare il fatto Che possiamo osservare Solo i singoli dati Senza conoscere L'intera storia La verità è lì dentro Ma non la vedo Maledizione Al diavolo tutto questo Fanculo Orwell Devo pensare Dai un'altra occhia Dei fatti Guardali un attimo E fammi sapere Se succede qualcosa di nuovo Ok? Allora Appena arrivato Il rapporto da squadra L'indirizzo di Abram Era completamente abbandonato Nessun mobile E rimasto niente Il che non è più Una sorpresa immagino È morto? Siamo sicuri Di questa cosa? Allora Assistenza Ho fatto una chiacchiera Con i membri del pensiero Ovviamente dicono Di non essere coinvolti Negli attentati Né in contatto Con Abram Goldfels Il pensiero è nato Come un gruppo di dibattito Ed è diventato Un gruppo di attivisti Solo in seguito C'è questa Juliet Carrington Che sembra essere innocua Ma c'è anche un certo Harrison O'Donnell Che potrebbe benissimo Essere un fanatico Parlare con loro Mi ha dato impressione Che Harrison sia il leader Di pensiero Se si può chiamare così Parlava apertamente Contro il governo E decreto sicurezza Ha proprio il carattere Di un tipo fanatico Osservalo Ricorda il nostro patto Doppio giochista Attaccare Orwell Ha funzionato Ma non a lungo E non funzionerebbe In nuovo Non in questo modo Regalo comunque Da un'occhiata Nostro server Pensiero Maneggialo con cura Lo sapevo Era stato lui Questo ragazzo Era dietro Il guasto Del back Del back end Avrei dovuto saperlo Ecco perché Era così patetico Cos'è cambiato qua? A di fuori di questi Che hanno scritto Un sacco di cose contro Dice maneggialo con cura Sto maneggiando con cura Eh non mi pare Si è cambiato niente Ma che dici? Sto maneggiando Il nostro server Web pensiero Maneggialo con cura Oh il progetto Orwell 17 aprile 2017 No aprile 2017 Ok Con tutte le nuove persone Sul nostro sito Sono essenziali Introduzioni proprie Incontate il mio Grande amico Benjamin Costigan Nel mio Penso a me Benjamin Chi cazzo è Benjamin Costigan Profilo Sbagliato Harrison Lui Io non sono amico di Ah siamo noi Cioè è questo qui Perché sono? Da dove viene? Ti concedo di Aggiungerne altri Se ce ne sono Voglio saperlo Io ho bisogno di saperlo Benjamin Incostigan Ciao salve Dove vengono due persone No Il mio grande amico Devo andare a casa Devo andare a casa Ora Nessuna sorpresa Nemmeno io Sentivo nulla Orwell Rende dispiacevole Mentre Facile Spiare tutti Potreste chiamare Questo ragazzo Oh ha dato pure L'indirizzo Se volete visitarlo Mandate i miei Migliori saluti Che casino Che casino E quindi Finito tutto Abbiamo finito Abbiamo finito la giornata Mi sa di si Eh si Finito il lavoro Ci sta fregando Quello Abbiamo scoperto Un sacco di cose Oggi La sua identità È stata compromessa Sotto i larghi rami Del castagno Catherine della Croix Attenzione Buongiorno Investigatore Dato che hai a disposizione Lo strumento Investigativo Più potente Sospetto Tu sappia già Chi sono Tu invece Sei stato Un investigatore Dirigente Finora Ha dimostrato Che Orwell Funziona come previsto Sarà oltre Nuovo consulente Su questo caso Questo caso Diventava troppo importante Per lasciare Un consulente Con l'identità Esposta Sims sta bene Ma non è più adatto A lavorare su Orwell Ciao Proseguendo Non parleremo più di lui Per quanto ti riguarda Non è mai esistito Quali rivelazioni Di Orwell Di ieri Simpatizzanti Di questo gruppo Terroristico Sono scesi in piazza Dobbiamo mostrare An azioni Che Orwell Ti tiene al sicuro Non permetteremo Alcuni sciocchi Di calpestare Tutto ciò Che abbiamo raggiunto Dobbiamo liberarci Dell'impostore Che finge Di essere Abram Goldfels Scopri chi è stato E dove si nascondono Vandalizzata La casa Di un impiegato Governativo Quei ah L'hanno distrutta La casa Praticamente Predestanti anti-Orwell Si riuniscono I rovini Del Freedom Memorial Sta succedendo Il casino Rinnovati negoziati A Triflit Sta succedendo Il casino Strano Nessun commento Onestamente Allora C'è un po' Di roba nuova Gunther Arons Quindi Goldfels Mi spiace Nina Mi spiace Davvero 17 aprile Di aver attirato L'attenzione Di misticatori Su di te Ma ad essere Sinceri E altre passate Limite il nostro Accordo Le bombe Erano intese Come un avvertimento Per coloro Che sono indifferenti Un richiamo Al nostro messaggio Che i nostri pensieri Devono essere Sempre liberi Non erano Destinati a uccidere Ancora una volta Mi deludi Con il tuo sommetto Mi odio e rabbia Considera nulla Il nostro accordo Merita è morta Il pensiero Deve riunirsi Ancora una volta Come tutti voi Avete già sperimentato Siamo assediti dal governo Ci hanno denunciato Ci hanno chiamato terroristi E hanno rivolto L'opinione pubblica Contro di noi Oggi Porremo fine a tutto questo I loro giorni Stanno per finire Ho un piano Ma perché questo si realizzi Dobbiamo incontrarci Come ai vecchi tempi Quando ci riunivamo Al castagno caffè Faremo una teleconferenza Alle 16 in punto Perché so bene Che incontrarsi di persona Potrebbe finire male Non dovete nevere La sorveglianza Tutto è stato sistemato Un raduno Sappiamo che Abraham Goldfeld È morto Qualcuno deve averlo impersonato È chiaro come il sole Dobbiamo agire in fretta E raccogliere Quante più prove possibili Prima che questo raduno Abbia luogo Il pensiero sta sicuramente Tramando qualcosa Come sai L'elaborazione di frammenti Di informazioni Richiede molto tempo Direi che abbiamo tempo Per circa 20 frammenti Di informazioni Stai attento 20 frammenti Di informazioni Rimenti da caricare Aiuto Il pensiero Il pensiero ti riunissi Ancora una volta Va bene È arrivata a tutti Queste mail Sparizione Pensi che io sia scema Prima non mi dici Dove vai Perché devi sparire Poi ora dopo Neanche rispondi al telefono Alla tipa con cui Sava a lui Quindi chiamo Pers Per chiederle di te Mi dici che ieri sera Ieri sera Eri al castagno Cybercaffè Dice che Sei entrato di corsa E hai nervosamente Scritto qualcosa Sul suo pc Mi sa questo Oltraggioso posto Sul blog Di cui parla il notiziario Poi subito Fuori dalla porta Solo per beccarti Con chi? Juliet Che vuol dire? Che sei tornato All'azione Con questo gruppetto Di merda E con lei Non ci posso credere Cazzo Quindi ora prova Con le email Così non mi eviti Un'altra volta Io e te abbiamo finito E sono seria Quindi lui ieri sera Era al castagno Cybercaffè Questo penso sia importante Quindi è dove Harrison O'Donnell Compiava i suoi loschi Traffici Probabilmente pensando Che non saremo mai Stati in grado Di localizzarlo Noi lo rintracceremo Ho esaminato Le informazioni Che abbiamo sui sospetti Rimasti Riguardo alle impersonazioni Di Abram Goldfels Da una fonte affidabile Abbiamo appreso Che O'Donnell E' probabilmente Il leader del pensiero O'Donnell Ha predetto gli attentati Già questo lo rende sospettoso Nah secondo me Non è a lui Non abbiamo idea Del perché O'Donnell Abbia nascosto i posti Sul blocco pensiero O sulla sua timeline Dobbiamo ancora chiedere Perché O'Donnell Abbia frequentato Una drogheria Così di frequente Forse a fuori dei materiali Per la bomba Perché O'Donnell Avrebbe dovuto avere Due sicurazioni sanitarie Evidente che O'Donnell potrebbe essere Coinvolto negli attentati Di Bonton Probabilmente E' lui che si spaccia Per Goldfels Voglio che tu lo provi E lo rinchiuda per sempre Non sono convinta Lobby Cybercaffè Chestnut 2048 Cittadini informatici Ciao mondo Internet è come un castagno Vabbè sti cazzi Classifica Quello è l'obiettivo primario Vincere il gioco Host Ecco i vostri host Leon H. Persephone Fondatore e capo del gruppo Ahmed Rattlesnake Marca Ecco la marca Fai sì che i drink Continuino ad essere serviti Che i bit Continuino ad essere dati Host onorevole Harrison Hancock Ex admin E' bellissimo Bellissimo Ex dipendente del castagno Cybercaffè Questo è interessante Così possiamo entrare nel suo computer Dov'è il mio telefono? Cerca persone Benjamin Costigan Questo conferma che Cherry sono donna Dietro l'esposizione Ma lo sapevamo già La tua lettera Life Trust Marzo 2017 Dov'è vera Sottratta automaticamente La tua fattura Life Trust Polizia Life Trust Family Plus Marzo Questa mi sa che è importante Lei ha detto Perché c'è assicurazioni Della vita Perché qualcuno Come donna Dovrebbe avere Un'assicurazione sanitaria Per un membro Della famiglia Quindi manco Per se stesso Il grande Hancock Ehi tu Volevo solo Ringraziati per il tuo supporto Sul posto del mio blog Per il pensiero La sensazione di un piacere Molto a Nina Spero di aver fatto Nulla di male 2016 Sinceramente mi spaventa un po' Sai non volevo avere Il suo posto in pensiero Se vuoi potremmo Trovarci domani a caffè E parlare I nostri grandi successi Qui c'è Le mail di Juliet Io non so se possa Servire onestamente Ti amo Hancock Come potresti aver sentito O meno Mi sono unita al gruppo Chiamato il pensiero In passato Pensavo di dirtelo In faccia Prima che qualcuno Da da mai Mi fecesse Prendersi merda Facciamogli prendere merda Siamo una merda Inutile così tanto Vabbè Io l'email De Juliet La metto Juliet Dove diavolo sei? Perché te ne sei andata Da Abe? Il nostro piano Era nasconderci Da qualche parte Fino a quando Non saremmo stati Più nemici pubblici Numero 1 e 2 Sì che era prima Che scoprissi Quello che hai fatto Hai esposto l'identità Di un impiegato Governativo Pensa bene A quello che è successo Adesso ci staranno Dando la caccia Era necessario? Guarda il TNB Abbiamo sviluppato Un seguito Se ci perseguitano Ora l'opinione pubblica Si ribellerà Questa piccola folla Con le loro bandiere Non fermerà nulla Saremo spariti Per sempre Una volta ci prendono Ecco perché Me ne sono dovuta andare Hai preso Le indirizze mail Di Abram Sì roba da pazzi Lo so Di botto ritorna E ha un piano Non posso crederci Dove sta tutto questo tempo? Andrei a questo incontro? Naturalmente Se c'è Abe Dobbiamo andarci Mi nasconderò Lontano da qualche parte Le posso chiamare Nel mio notebook Doresti fare lo stesso Non nasconderti In un posto Dove sei stato L'ultime 24 ore Potrebbero controllare Lì come prima cosa Il mio cazzo di telefono È sparito Con proprio come Sei sparita stamattina Non l'hai visto per caso? Gesù non puoi prenderti cura Delle tue cose No non ho visto il tuo telefono Fanculo Provate a rintracciarlo Ma non manda nessun segnale Probabilmente scarico Qualcosa del genere Sì quello che ti pare Andrò senza Fino all'incontro Sì fino all'incontro Knock knock Chi sei? Mi chiamo iniziato Sei l'hacker di cui ha parlato Harrison? Corretto Quindi hai creato il blog Del pensiero C'hai seguito C'hai seguito in giro Perché cosa vuoi? Voglio sapere cosa è successo Al pensiero Questi attentati Mi risuonano nella testa E io semplicemente Non lo so Devo parlare di pensiero O è stato il governo? Ascolta Non lo so Neanche io Mi dispiace Ma sta ancora succedendo Un casino Se puoi aiutarci Per favore fallo Ho paura Che il mio aiuto Ti abbia portato Dove sei ora Hai aiutato A addossarlo Costingan Costingan Harrison mi ha detto Che non ci avresti dato una mano Non parlare così liberamente Ho dimenticato Quello che sta succedendo Giusto Scusa Dove farlo di nuovo Ciò che hai fatto Che cazzo vuol dire No Questo inizio È una seccatura Necessa di rivela La sua vera identità Mi rientracceranno Di sicuro Sono a malapena Riuscita a scappare L'ultima volta Prima però Ho bisogno di più info Su questa cosa Al momento Non vedo proprio Una soluzione Cosa stai facendo? Non lo so Abram Goldfeld Colui che ha fondato il pensiero Ci ha avviato un messaggio Il pensiero dovrebbe riunirsi Ancora una volta Eib è tornato E lui dice Campiano Lo conosci? Una specie? Da dove? Coincidenza Senti Senti se conosci Abram Perché non vieni anche tu Alla riunione Inizierà le 4 del pomeriggio Come teleconferenza Dammi il tuo numero E inviterò anche te No Grazie ma no grazie Sembra una trappola per me Non dovresti nemmeno partecipare Sono abbastanza sicura di no L'email sembrava autentica Fai come vuoi Lo farò Buona fortuna Con questo incontro Buona fortuna Ricerca su ciò che sta accadendo qui Ne avrei bisogno Allora 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 Questa qua Non nasconditi in un posto Dove sei stato Nelle ultime 24 ore Un utile indizio Troverei altre tracce Sua posizione Nascondita Sicuro di validarli Controllando dove si trovano prima Il telefono è sparito Però l'avevamo già capito Perché lo cercava Ha perso il telefono Credevo che sarebbe stata attaccata a esso La metà del nostro tempo è passato Rimani dirigente e attento Eh Solo altri 10 ne posso caricare Che posso fare? Cellulare Ok Sky chat Ehi Giudbo Compleanno Passa una bella giornata Vabbè Cazzate Grazie per i fiori Mi spiace Mamma Io non sarò venuta a casa Oggi 14 aprile però 14 aprile Quando c'è stato l'attentato Angela Castro D'Anton Eddy Peter Fletcher Frida Jule Questo potrebbe essere utile Bene Bene Tieni di occhio anche lei Cassandra Boh Ormai abbiamo nucleato Cassandra No Vabbè I numeri di telefono Possono essere utili Eh 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 Mu arrivo un attimo Mi spia Nina Mi spiace davvero Avrei tirato l'attenzione Di investigatori Su di te Ma ad essere sinceri Oltrepassati i limiti E questo Mi aveva mandato Abraham Goldfels Scrivi email Come Abraham Goldfels Questo è importantissimo Era Harry Sono donne Dopotutto Ben fatto Investigatore Assicuro di avere tutti i luoghi rilevati Rilevanti in cui potrebbe nascondere il suo profilo Così possiamo procedere con l'arresto Mostrando i luoghi dell'ultime 24 ore Eh Quindi questo Non deve andare in questi posti Ha detto Quindi questi sono da escludere Questi sarebbero da escludere in teoria La porta aperta Iniziato Devo scusarmi per essere rimasto in silenzio Tutto questo tempo Stavo lavorando a un piano di nascosto Oggi tu chiedi di aiutarmi Per farlo avverare Sono a conoscenza della tua capacità Oggi le 4 del pomeriggio Victor Rosen Carrington Juliet sono Victor Ciao Victor Ho appena parlato con Maria Perché non sei al lavoro? Ho spedito il mio certificato medico Non l'hai let No Non lo hai fatto Sei stata qui Tutto il fine settimana È quello che il tracciatore dice Ma nessuno ti ha autorizzato a farlo Ora che dovresti essere qui Non ci sei Inoltre cos'è Registrato sotto il tuo account? Questo ID Non appartiene a un dispositivo Approvato da una compagnia Io dovrei spiegare queste irregolarità Ti voglio nel mio ufficio Il prima possibile Non penso Va bene ragazzi Io finisco qui il video Perché sono diventato troppo lungo Anche se andrei avanti a oltranza Voi mi raccomando Come sempre Mettete un mi piace Lasciate un commento Iscrivetevi al canale Vi aspetto anche su Telegram E al prossimo episodio Alla prossima Ciao Ciao